Neusapia Palladino era una medium italiana. Lei è nata in 1854 in Altaburgia, una regione di Puglia. Un'orfana dalla nascita, lei non ha mai ricevuto una educazione. Nei primi anni della vita, lei si è sbosato un prestigiatore. È apparsa a Milano in 1892 e immediatamente ha fatto una impressione come una medium degli spiriti. Sempre in una stanza buia, Palladino ha levitato nell'aria, ha fatto materializzazioni di spiriti e ha suonato strumenti musicali senza l'uso della mani. Lei ha dimostrato le sue capacità di medium fisico in varie paesi d'Europa. Moltissime persone, incluso a quattro Nobel della scienza, hanno investigato Palladino per scoprire degli imbrogli, ma hanno concluso che il potere è stato reale. Comunque, alcuni detrattori hanno dubitato che Palladino avessi poteri sopranaturali.